Benvenuti di volta sul mio canale La mia luce gialla gialla non funziona Quindi oggi vorrei mostrarvi come lo riuscirò Aggiungere l'accesso alla macchina del tuo caro nella pompa di fuel Per farlo consiglio davvero di avere il manuale di workshop con voi Iniziate avvolto il 4 screw che mantiene il cover Una volta aprire il cover devi disconnere 2 connessioni Se questi connessioni sono sticchi usate alcuni lubricanti Per disconnere il connessione puoi imparare il plug in flap per rilassare poi pulite Non pulite dal filo come potete rilassare questo Una volta che abbiamo disconnuto la pompa di fuel prima di continuare dobbiamo rilassare la pressione dalla linea di fuel Rilassare il polo negativo alla batteria e rilassare l'accesso fino a che si stoppa leggere also open your fuel cap to let the vapore pressure get out from inside the tank thatt's gonna be better Ora, mi suggerisco di iniziare a usare un cavolo di nitrile. Non usate un cavolo di latex, perché non sono resistenti a combustibile. Usate anche gli occhi di protezione, e se stai giocando con combustibile, sicuramente abbia una fine estincuazione e un acqua di acqua vicino a te. Non lo so! Lose le due flusche di combustibile. Una volta che hai lozionato i tuoi flusche, evitati di usare un screwdriver. Usa una ruota, questo è sicuro per il tuo rubber hose. Ma prima di disegnare i tuoi flusche, sicuro che non c'è pressione di combustibile dentro. E in ogni modo, usate una ruota per sicuro che non c'è di combustibile di combustibile. Una volta che hai disegnato i due flusche, devi disegnare le due flusche di valve con una ruota di 10 mm. Unbolte l'8 screw, e poi rimuovere la ruota di combustibile. di combustibile. Poi mettere in un luogo verso l'altro. Un, due, e lentamente rimuovere la ruota di combustibile. Prendete il tempo per lasciare tutto il combustibile. Per il tempo che avremo a lavorare sul sensore, non vogliamo nulla di acqua qui, qui, quindi solo copriamo con un rambo o qualsiasi che vuoi usare. Questo è il pump di fuel, ciò che non funziona è questo. Questo è il sensore di ammiglia di fuel. Cercate il filo per un'interruzione, il filo sembra bene, ma ciò che dovremmo fare è controllare la continuità. Ok, c'è continuità qui. Quindi ora siamo sicuri che il problema è il sensore, perché il filo funziona. Mazda non vendrà solo il sensore, dovete comprare tutta l'assemblea a un prezzo di 550 euro, più taxe, ma ho trovato solo il sensore per 20 euro. Il sensore ha due fili inizio di uno. Deve devi ridurre il nero. L'armor della fuel assembly sarà in contatto con l'armor del sensore e farà il lavoro. Il filo rosso è un po' più corto, ma non è difficile trovare un altro modo. Voglio usare il connettore stock, quindi solderemo il nuovo filo direttamente al piccolo filo del connettore. Dopo spingere il filo bloccato, pulire il connettore, sarà facile da diseggiare. Il filo bloccato è bloccato dentro il connettore da un piccolo filo. Inserire un filo bloccato molto piccolo per diseggiare. Poi pulire lentamente dal filo. Potrebbe essere venuto facilmente. Usare il filo bloccato e cercare il colore. Nel mio carico il filo del sensore del stock era beige. Nel nuovo è rosso. Non fai un errore. Ok. Ora abbiamo due opzioni. Potremmo mantenere il filo bloccato e soldere il filo del stock al nuovo sensore. O soldere il filo del sensore al connettore del connettore del connettore con solo diseggiamento. Preferisco usare il nuovo filo, ovviamente. Disconnecte il filo dal connettore del connettore del connettore senza causare un problema al connettore, specialmente alla mano, altrimenti non funziona più nel connettore. Prima di iniziare a soldere, sicuro che non c'è acqua di acqua che potrebbe essere lancato dalla pumpa di acqua. Poi soldere il filo al connettore del connettore. Potremmo finire con un filo di crimper. O solo un filo. Con un pennello, dobbiamo solo un piccolo pulito alla pumpa di acqua. Poi mettiamo il sensore in place e poi cerchiamo la continuità. Cosa significa? Se tocco qui, c'è continuità. Perché questo filo non tocca, ma tocca qui. Ok. Quindi, in questo car, in un Mazda RX-7, non abbiamo bisogno più di questo, quindi potremmo tagliarlo. inserire il paston in il connettore e push it until the end. Poi, cerchiamo che è bloccato. E poi potremmo ingerirlo ancora. Ora potremmo funzionare. Assembliamolo in volta. Nel modello di reverse, disassembliamo la pumpa di acqua. Assembliamo ora in volta. Ma non preoccupate. Se hai scoperto ciò che hai fatto, ti seguirei ancora. Quindi, scopri il tank e inseriti la pumpa di acqua. Poi, lo dovresti affrontare con 8 ruoli che suggerisco che ti permette di tagliare in un patto criss-cross. Reconnecti un po' ruoli fino a che si ferma. Potremmo usare qualche lubricante per rendere il lavoro più facile. Ok. Questo è tagliato. Allora, mettiamo i due volti di 10 mm. Ho usato qualche silicone base di lubricante per preservare l'oxidazione e anche per preservare il plastica del connettore. Prendete i due connettori e poi riuscire il cover con il 4-scrovo. Ho appena usato tutto. Ho bisogno di tornare a casa. La mia esposa mi riempia. Siamo tardi oggi. Il nodo dell'indicatore di fuel quantità può prendere un po' minuti prima del riso dopo aver stato disconnettato. Quindi non preoccupate. Gli diamo qualche tempo. Potremmo usare di frenare l'innovazione qualche volta prima che inizia. Come la pressione di fuel deve essere restata. Ok. Il motore è iniziato. Per cercare se il motore giallo funziona. Potremmo il fuel per ammettare il fuel quindi ti avvicinare Come il motore giallo ha disperato significa che ho fatto un buon lavoro. Minchia! Ho salvato molto dinero con il senso di aftermarket sensore. Ho spero che sia stato aiutato a voi in questo caso lasciate un like e ricordate di abbiare a questo canale. Grazie per aver guardato. Contento bonus Non mi piace questo cover pieno di ossidazione. Metteremo e proteggerlo con il composto di zinc. il composto di zinc rideremo il composto di zinc rideremo il composto di zinc aggiungere un pochino un pochino di zinc con il mismo peper di circa 200 Metteremo il canale per circa 2 minuti poi spray la vernice da ogni parte del colore Quando finisci in modo di pulire il nozzolo sprayi un pochino con il canale all'interno dopo un pochino possiamo gestirlo. cercare la differenza tra questa parte e l'altra parte è bellissima quindi ora possiamo proseguire all'altra parte con la stessa procedura è anche importante dipendere tutti i bordi lo'azietta remove the mask and the job is done